Il test di ingresso a medicina veterinaria è stato stravolto o quasi? Ma dunque, come funziona il nuovo TalkVet a partire dal 2023? Scopriamolo insieme, dai! Il fatto che il test di ingresso a medicina veterinaria sarebbe cambiato più o meno profondamente era una cosa che ci aspettavamo, ormai quasi nota e certa, sin dall'inizio del 2022. Ma fondamentalmente non vi era ancora certezza, certezza che ora abbiamo grazie al decreto ministeriale che è stato pubblicato pochi giorni fa. Questo che cosa ci dice? Ci dice tante cose, ma non ce ne dice tante altre. Per quale motivo? Perché sicuramente la grande certezza è che ci sarà un altro decreto ministeriale. Atteso, si spera, entro la fine di novembre 2022 per chiarire cosa? Beh, ad esempio se dovrai fare l'immissione in graduatoria ogni volta che farai il test di ingresso. Esatto, perché? Perché sappiamo che puoi fare adesso il test di ingresso a medicina veterinaria più di una volta, esattamente due volte all'anno solare, aprile 2023 e luglio 2023. Sono stati individuati come i periodi di queste sessioni, ma non sono neanche chiare quelle che sono le date precise. Così come non sappiamo il numero di posti disponibili almeno per l'anno accademico 2023-2024. Non sappiamo neanche che fine hanno fatto i percorsi in lingua inglese di medicina, medicina veterinaria, chi più ne ha più ne metta. Quindi le cose da chiarire sono ancora molte e per questo io sono qui. Sono sempre Matteo, anche noto come supermat, il tuo superore scientifico sempre a portati click, pronto a darti una mano, come al solito, sia in matematica che in fisica. Ma oggi sarò, appunto, ancora una volta, il tuo fantastico Virgilio all'interno di questa nuova selva oscura, come ho già fatto qui, a boom, all'interno di questo video dove ti ho presentato il TalkMed, il nuovo talk di medicina, che è stato istituito proprio dal seguente decreto ministeriale di cui parlavo, insieme al TalkVet, il talk di veterinaria di cui parleremo esattamente in questo momento. La più grande novità è quindi sicuramente che il test è diventato un talk, test online del Cisia, quindi è un test perfettamente computerizzato, gestito dal Cisia, che si occupa già di anche altri test di ammissione all'università, come ad esempio il test di ingresso a ingegneria, Talk I, il test di ingresso a biologia, Talk B, e via dicendo tutta un'altra serie di talk, dove ho già parlato ampiamente anche sul mio sito web, qui, boom, trovi una serie di articoli, che ti informano più in generale su come funziona il talk. Dicevamo, test computerizzato, che significa? Significa che però lo devi andare a fare in sede, non lo puoi fare da casa. La sede però la puoi scegliere esattamente quella che vuoi tu. Cioè nel momento in cui ti vai ad iscrivere per effettuare il talk, attraverso il portale sull'area riservata del Cisia, Cisiaonline.it, ti lascio qui sotto il link in descrizione, potrai scegliere la sede all'interno della quale effettuare questo test al computer. Il fatto che il test sia computerizzato non solo ci porta nel futuro, abbandonando carta, penna e calamaio anche per il test di medicina, ma soprattutto ci permette appunto di farlo dove vogliamo e è diviso il test in diverse sezioni, quindi dovrà cambiare anche leggermente la tua modalità di allenamento e soprattutto di gestione del tempo. Argomenti che tratteremo dopo appena introdurremo la mia amica a Super Lavagna per parlare un po' meglio di qual è la struttura del TalkVet. Dicevo dell'iscrizione al Cisiaonline, la puoi fare già adesso, troverai all'interno una serie di MOOC, Massive Open Online Courses, che ti dovrebbero permettere in maniera completamente gratuita di seguire una serie di corsi di formazione, di ripasso, di studio, di matematica, biologia, fisica, chimica, tutte le materie fondamentali e principali che ritroverai all'interno dello stesso test d'ingresso a medicina veterinaria. Avrai la possibilità di sfruttare le PPS, le prove di posizionamento nazionale, che ti dovrebbero permettere di capire più o meno il tuo punteggio, come si mette insieme alla media nazionale, così per capire se ti stai preparando bene, male, malissimo, benissimo, non lo so. Troverai anche in teoria una serie di link utili, tieni conto che il tutto dovrebbe essere in aggiornamento e pronto nelle prossime settimane, troverai una serie di link utili, il cui link principale io te lo lascio già qui sotto, nel link in descrizione, per fare un po' di orientamento all'interno dell'Università della Facoltà di Medicina, per cominciare a studiare con altro materiale che viene messo online da diverse università, quindi una serie di informazioni utili, sia per orientarsi e sia per studiare. Ma io direi che è il momento di andare a vedere quelle che sono le novità poi più corpose, principali, alcune delle quali te le ho già accennate, di questo nuovo TalkVet. Ehi la Big Genius, sicuramente la novità più grande è che il test Talk di Medicina, e quindi anche il TalkVet, non si può più fare solamente al quinto anno, quindi al termine quando hai conseguito il diploma, o per chi già possiede un diploma, ma d'ora in avanti si può fare anche quando si è iscritti a un quarto anno di scuola secondaria, superiore, di secondo grado. Questo tecnicamente è la grandissima novità. Questo che vuol dire? Vuol dire che se tu adesso stai frequentando il quarto anno di una scuola superiore e fondamentalmente stai pensando per l'anno accademico 2024-2025 di iscriverti alla Facoltà di Medicina Veterinaria, puoi già pensare nelle prossime sessioni di aprile e luglio 2023 di fare il test. In questo modo avrai ben quattro definitive possibilità per cercare di sviluppare il tuo miglior punteggio. Non devi avere paura ovviamente di andare a fare il test più e più volte perché viene considerato comunque solo ed esclusivamente il tuo punteggio migliore. Mentre ovviamente se tu adesso in questo momento sei iscritto o iscritta al quinto anno di scuola superiore, beh, in questo caso sarai un po' sfigato, passami il termine, perché potrai farlo solo ed esclusivamente due volte. Quindi aprile 2023 e luglio 2023. Questa più o meno è la grande novità. Successivamente, quindi, però non ci dilungheremo adesso su quelle che sono le modalità più o meno di punteggio. Faremo un video specifico anche perché, come saprai, magari è stata introdotta la novità del coefficiente di equalizzazione, il punteggio non equalizzato, poi che viene equalizzato. Insomma, un po' di sana e felice burocrazia che ci complica la vita. Ma in realtà ti assicuro che non ti interesserà più di tanto. Per il momento vorrei limitarmi a quella che è presentarti gli argomenti, la struttura del TalkVet con qualche consiglio per la preparazione e per lo studio e ricordarti che ovviamente il test TalkVet avrà un costo. Il costo dei Talk ad oggi è di 30 euro qualunque esso sia. Ne ho parlato all'interno di questo video specifico generale per farti capire come funziona il Talk. Fatto ancora prima che venisse definito il TalkVet, ma la modalità ovviamente rimane la medesima per tutti i test online del Cisia. Quindi anche questi non è ufficiale, ma ci si aspetta che dovrebbero costare intorno ai 30 euro. Bene, mi sembra di averti detto tutto, quasi, quindi io chiamerei in causa la mia amica Super Lavagna per presentarti la struttura del TalkVet. Ta-ta! Ecco a te la fantastica struttura del TalkVet, il test di ingresso a medicina veterinaria a partire dal 2023. Prima che io mi dimentichi e prima di analizzare questa struttura un po' meglio insieme, vorrei dirti che ovviamente prima di poter iscriverti al secondo Talk del secondo periodo, ovviamente devi aver sostenuto il primo Talk e poi ti puoi iscrivere al secondo, e poi quel punteggio non è automaticamente inserito in graduatoria, ma sarai tu, esattamente tu, che lo dovrai inserire in graduatoria attraverso il portale di Universitaly. Altra iscrizione, altro giro, altra corsa, altro link che puoi trovare qui sotto in descrizione, quindi di conseguenza, beh, cerco di aiutarti al meglio possibile fornendoti tutto questo qui sotto in descrizione. Al momento su Universitaly sì, puoi iscriverti, molto probabilmente non troverai, ahimè, nient'altro, perché forse è un po' troppo presto, dipende da quando vedrai questo stupendo video. Detto tutto questo, però, Talk di veterinaria, abbiamo quattro sezioni fondamentali, chimica e fisica, matematica e ragionamento logico-deduttivo, biologia, comprensione del testo e conoscenze acquisite durante gli studi. Esatto, quello che a me non piace dire, quindi ci limiteremo a dire a comprensione del testo. Prima osservazione, l'ordine in cui ho scritto queste sezioni è casuale? Assolutamente no. Questo è l'ordine, prima cosa, in cui te le ritroverai all'interno del test computerizzato. Il test, ti dicevo, è diviso in sezioni, ogni sezione ha il suo tempo, quindi che cosa significa? Significa che tu hai 30 minuti, non di più, di meno, volendo sì, per completare questa sezione, ma se tu spendi anche 28 minuti, due minuti rimanenti, non è che li puoi guadagnare e utilizzare in un'altra sezione. Praticamente è come se fossero 4 microtest da 30, 25, 20 e 15 minuti che compongono il test più grande e generale. Questa è la struttura tipica di un test online del CISIA. Successivamente che cosa ci abbiamo? Ci abbiamo che l'ordine non è casuale anche per un altro secondo motivo fondamentale, ovvero, ovvero devi dare più importanza ad esempio a chimica e fisica, poi in secondo posto a matematica e ragionamento, poi solo a biologia. Perché non tanto solo per il numero di quiz presenti all'interno di quella specifica sezione, ma perché se ad esempio io e te dovessimo arrivare a pari punti all'interno della graduatoria finale, 30 punti e 30 punti, ma io magari ho fatto 10 punti in chimica e fisica e tu solamente 9, allora a quel punto io in graduatoria sarei più alto di te. E via dicendo in ordine decrescente per tutte le altre materie. Ecco perché è importante capire magari che fare 15 punti qui è più importante che farne 13 qui, ipoteticamente. Questa più o meno è la mentalità che dovresti sfruttare ed utilizzare. Ogni quiz ha 5 risposte, di cui una, solo una, corretta. Per ogni risposta esatta ti verrà dato un punto, per ogni risposta errata meno 0,25, per ogni risposta non data 0. Questo che significa che c'è la penalizzazione, che ci sono 5 possibili scelte, che non puoi sostanzialmente andare a caso, perché sarebbe più o meno una sciagura. Tieni conto che chi risponde sempre e comunque a tutte le domande vede abbassarsi di molto il suo punteggio solidamente, almeno questo è quello che ho visto io, con diversi miei studenti nel test online del CISIA, anche di altri argomenti come quello di ingegneria. Successivamente che cosa ti volevo dire? Ti volevo dire che devi gestire opportunamente il tempo, quindi riorganizzare il tuo allenamento, sia in ottica di quali materie dare più importanza, sia in ottica di gestione del tempo. Il tempo può sembrare poco, ma in realtà non è così poco, ci saranno delle domande a cui non rispondi, punto e basta, come dicevo prima. Questo dovrebbe essere la struttura del talk di veterinaria. Io ti ringrazio per essere arrivato fino in fondo a questo video. Iscriviti al canale, guardati magari tutte le altre video-lezioni, ne stanno arrivando tante altre, anche per darti una mano all'interno di questa nuova giungla. Ciao, campione! 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 Grazie a tutti.